Queste tematiche sono trasversali a tutti gli altri cluster che sono stati realizzati dalla regione Emilia-Romagna perché capite benissimo che energia e sviluppo sostenibile sono importanti per l'agricoltura, sono importanti per la salute, sono importanti per la mecatronica e sono importanti anche per il settore dell'edilizia e delle costruzioni. Questa è la ragione per cui ho tenuto a essere presente in questa occasione per presentare al mondo dell'edilizia e delle costruzioni ciò che questo cluster può fare e ciò che il mondo dell'edilizia e delle costruzioni può contribuire per lo sviluppo dell'intera filiera.